Libia, il giorno dopo l'attacco all'Accademia Militare di Tripoli, si piangono i 33 morti. La diplomazia internazionale tenta la strada del dialogo, mentre Ankara annuncia i primi soldati turchi sono già nel paese per sostenere Al-Sarraj. Il corrispondente Giuseppe, buona volontà. Le donne piangono i loro figli uccisi nell'attacco all'Accademia Militare. Le ambulanze che trasportano i corpi passano sopra manifesti che raffigurano Haftar. Al generale della Cirenaica e ai velivoli da guerra degli Emirati suoi alleati, gli slogan attribuiscono la responsabilità della strage. Il bilancio è di 33 morti e decine di feriti, alcuni dei quali in condizioni gravissime. I portavoci degli assedianti di Tripoli sostengono, contro l'evidenza delle immagini, che la bomba era stata piazzata all'interno della struttura da terroristi dello Stato Islamico o di Al-Qaeda. A sostegno di Al-Sarraj, il presidente turco Erdogan entra in azione con i suoi uomini. Fonti di Ankara annunciano che i primi incursori e specialisti nella difesa aerea sono già in Libia. Le tv turche mostrano le parate di altri pronti a partire. Argomento di grave preoccupazione anche le condizioni dei migranti nei campi di detenzione in mano alle milizie, specie in quello di Bani Walid, dove, come viene raccontato nelle testimonianze raccolte dal quotidiano avvenire, i prigionieri vengono sottoposti a torture e violenze di ogni genere.